È stato bene il viaggio? Sì, vinto un attimo, dai! Allora, guarda, questo è il sito. Ma lì ce ne sono due, due, due! Ma tutti da casetta, questi o sei partita da qui giù? No, allora guarda, Napoli. Allora, guarda, lei ha sofferto un po' la macchina, tanto che ha le bambine, guarda, bagnate. Allora, lei ha la pittolina un po' larga, io ho timore a farla camminare qui. Quindi prendiamola in braccio e la mettiamo direttamente in macchina? Sì, 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 ok. Su, sei già aperta la macchina, vai! Vai con lei. È qua, è qua, è qua. Ciao Carlo, vai lì, vai! Alla busta, dobbiamo andare alla busta, vai! Vai, vai, vai! Vai a metterla, poi... Ciao Martina! Mi porti Margare? Siamo pronti! Tira fuori la busta! Amici di Un Siciliano in Campania, ricordatevi di iscrivervi al mio nuovo canale Un Siciliano in Campania e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Oh, mi raccomando, iscrivetevi! E infini, a che voi venga la alla stessa fordacassosa. E infini, a che voi venga la ultima partita! E infini, a che voi venga la terra allora? Vesci! 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 Vesci!